Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch per avere il giubbotto antiproiettile speciale, quello che indossa un completo del CEO senza salvare il completo del CEO. Per eseguire questo glitch avrete bisogno almeno di un amico che vi aiuta, dovrete aprire in meno interazione, dovrete andare su stile, inventario, giubbotti antiproiettile e se l'opzione mostra giubbotto dovrete impostare auto. Una volta fatto ciò il vostro amico dovrà avviare la missione del centro operativo mobile disputa lavorativa che sarebbe l'ultima missione del centro operativo mobile. Potrete avere il giubbotto antiproiettile speciale con i pantaloni da jogger rossi e jogger neri. Se volete avere il giubbotto antiproiettile speciale con i pantaloni da jogger neri, come in questo caso io, dovrete per forza entrare al terzo posto nella missione, per cui avrete bisogno di due amici che dovranno essere all'interno delle impostazioni dell'attività prima che voi entrate nell'attività. Quando il vostro amico vi avrà invitato nella missione dovrete accettare l'invito ed entrare nella missione, dopodiché il vostro amico dovrà cominciare la missione. Appena sarà iniziata la missione dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su stile, inventario, giubbotti antiproiettile, dovrete andare su modello e dovrete premere una volta la freccia destra e una volta la freccia sinistra per cambiare un modello di un giubbotto antiproiettile e riselezionare il modello che era già impostato prima. Fatto ciò dovrete chiudere il menu interazione, dovrete aprire il telefono e dovrete abbandonare la missione. Quando sarete sponati in sessione, se il glitch sarà uscito correttamente, sarete sponati in sessione con il completo che il personaggio indossava nella missione. A questo punto potrete salvare il completo tra i completi salvati così com'è, oppure potrete modificare le scarpe. Modificando le scarpe, con la maggior parte delle scarpe, il personaggio avrà i piedi o le caviglie invisibili sia con i pantaloni da jogger neri sia con i pantaloni da jogger rossi. In più avrete il giubbotto antiproiettile speciale che normalmente non si può indossare. Potrete modificare il personaggio aggiungendogli una maschera, un copricapo, gli occhiali, accessori, scarpe, il giubbotto antiproiettile speciale non scomparirà. E tranquilli che dopo aver salvato il completo tra i completi salvati, sia dopo aver cambiato sessione, sia dopo aver cambiato il completo, sia dopo aver riaviato il gioco, il completo non scomparirà, rimarrà tra i completi salvati. E potrete fare questo glitch sia con il personaggio maschio, sia con il personaggio femmina. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orkover tutto noi ci vediamo al prossimo video. Bella!